Avete mai mangiato il burro di arachidi? Per molti è una golosità, per altri invece è la vita. Questa bustina si chiama Plampinat ed è un integratore alimentare altamente proteico ed energetico al gusto di burro di arachidi e viene dato ai bambini gravemente malnutriti. Questa bustina costa solamente 37 centesimi e può salvare la vita di un bambino. Pensate un po' cosa possiamo fare con un sms da 2 euro. Aiutiamo Save the Children a dire basta alla mortalità infantile, non lasciamoli andare.